Bene, nuova partita, nuovo video! Mi ha preparato un po' di cose Mi mancavi le panna Queste patatine al bacon Che lui è vegetariano e ha detto no, non posso mangiarle Abbiamo guardato gli ingredienti Non c'è la carne Ingredienti Farina, olio vegetale, peccola, aromi Sale, agente lievitante, paprika, curcuma, antiossidante Poi cosa abbiamo? C'erano anche appunto accusato di aver fatto molta pubblicità occulta Quindi questi non sono dei Bacardi Breezer, Ruby Grapefruit e Altropical Lime Assolutamente no I Bacardi Breezer, Altropical Lime E' una caramella Le caramelle dobbiamo dire che sono dell'aribo No, diciamo che sono degli orsetti gommosi dell'aribo E poi, infine, c'è questo peperoncino Noi abbiamo detto che fare In pratica ogni anno conito durante la partita noi ci mangiamo C'era anche nella partita No No Titolare Bazzare In inglese, che ricordiamo tutti, è l'unico che cambia a seconda Se il governo c'è il re o la regina Una volta era God Save the Rolling Stones Poi God Save the Beatles E poi è fatto God Save the Queen Perché l'ha scritto loro Ma fra i 10 anni sarà God Save the Tokyo Hotel Che è il nostro Dell'elmo di scimmio Dove la vittoria Se borga La chioma Se borga la chioma Ma non ricordavo quando era un senso Il Dio la forda la Spanaglast Staraklum Staraklumpast In canta Gemelli di Svizzera L'Italia seresta La grinta la faccia Come Blasphemizzare un inno Vediamo se c'è ancora un po' di sta panna Nella spessa dell'altra volta Ma scherzata? Tu fai così da allora scherzo Via, partiti Se vedete i miei caldi nel primo piano E' normale E non avete visto quelli nelle mani Oddio Balzaretti sei una merda Balzaretti era panchidano nella squadra dell'Ortorio Infatti giocava con Abate Abate Contro testa non è fatto Tiro le testa Occhio contro occhio Occhio contro occhio potrebbe non essere fatti Ahahahah Pensa che Tipo che si contrastano Dai, ah, ah Ah Balzaretti ma E' visto come si muove Si, sembra Sembra un coglione Non so Chiedo scusa a Balzaretti se un giorno vedo questo video Sembra Comandato da un joystick Con poche piglie Si Mi raccomando Adesso Tira Tira Ah 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 Con i pugni Balzaretti Con i pugni Balzaretti Sì Finalmente hai partito bene il suo sport è il pugilato Sto pensando secondo te così Gista Qual'è quello di Balzaretti? Balzaretti nessuno per il contro il pallone Sebbiamo dopo che è stato con Raffaella Vigo Ahahah 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 Tutti a bere un tè caldo E Runei un ciupito Ahahah Ci vediamo dopo Ci vediamo dopo 0 a 0 Partita sciatta Balzaretti sempre in berda Il 5 giugno Faremo tutti insieme con un abbraccio Che spaccano anche i suoi figli mici di peperoncino interno Ti comprerà Tutti i possetti E sono anche molto preso Sì sono parlati Un minuto a circa Fa Ah 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 Bella partita eh Adesso Oh mi divertivo così da quando ho visto le regole nella casa del sito Ballotelli Ehi Mario Tira Ah veramente Dai tira Dai Che bravo Tira Fallo No ha perso la palla Balotelli Mario tira Ha perso la palla Balotelli Sbomba BUUUUU Tira 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 Ehi Runei una cosa Runei Succa 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 Dillo Awe Runei Per potergli dire Wenino 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 Succa Tiralo Mangiale No Cazzo Ha munito Barsagli al trentasettesimo Sai che farà male? Sì Alla vostra L'amunizione L'amunizione Tutto difficile Tutto difficile oia arrivo arrivo polca vaffa culo oia addio addio funzionare la cervella? forse è così senti il male dal tuo infatti non te ne tiro più la nostra pappa non sede attimo muoto mi si è sciolta le piglossi 3 minuti di recupero ancora 3 minuti di recupero l'ho già detto io finita 0-0 poi ancora per diamanti aerea di rigore scende male in mezzo perca la merda non abbiamo segnato ma siamo ai rigori questo vuol dire che a ogni gol dell'Italia noi dobbiamo fare quello che avevamo previsto per ogni gol dell'Italia ma in forma un modo ottimale per farsi un male della madonna ahahahah primo rigore gol 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 the si se qualcuno di un bambino a la acqua a 4 non si è il corpo non il padre non 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 fa! vai vai! guarda, parte malissimo! e lo sbaglio sicuro GINGDEEE понрав 문제 non hai preso si, se si segni il finita è passati! Voi! Voi! Voi voi! Ma va a fattura! Ma che cazzo vuoi? Uno, due, FATTA! Ehi, ehi, Rune, un'ultima cosa! Suuucca!